La vite si risveglia, le gemme germogliano, nei prossimi mesi i grappoli della nuova vendemmia matureranno. La natura non si ferma e dunque le aziende vitivinicole abruzzesi non possono indugiare, lavorando sodo nonostante il crollo delle esportazioni, le cantine ancora piene di bottiglie invendute, l'assenza di manodopera stagionale, un altro problema serio. E poi eventi e fiere annullati, ristoranti chiusi, difficoltà logistiche nei trasporti, incassi fermi ma spese da onorare. Aumentate le vendite nei canali della grossa distribuzione, le piccole aziende abruzzesi fanno invece fatica, costrette comunque a seguire il ciclo della natura che non conosce virus ma solo acqua, sole, il giorno e la notte. E' il ciclo della natura appunto. Aziende vitivinicole in crisi e costrette a resistere in una tenacia ammirevole. Non arretra di un centimetro Nicolino Paolucci, titolare della vinicola Venea, dieci anni di vita, esportazioni in Europa e oltreoceano di apprezzati vini, Montepulciano, Trebbiano, Pecorino. La natura non conosce coronavirus, madre natura manda sempre avanti le piante e quindi abbiamo finito oramai quasi da un mese la potatura. Adesso stiamo facendo gli allacci, le opere finale prima di ripartire con i trattamenti di primavera. La mano d'opera? La mano d'opera scarseggia. Noi come azienda stiamo bene perché abbiamo degli operai assunti 365 giorni però c'è che qualcuno si la mette, che scarseggia un po' di mano d'opera. E la situazione qual è? La situazione non è tanto rosa, purtroppo il mercato si è fermato. Riguarda il vino, attenzione, l'alimentare in genere sta andando ma il vino si è bloccato totalmente in tutti i paesi del mondo purtroppo perché è un problema mondiale. Siamo oramai con le scorte degli anni passati che dovevano partire, la nuova annata doveva partire in questi giorni, in questi mesi. Le fiere sono saltate tutte, quindi sono andate tutte a fumo e adesso in prossimità della prossima raccolta perché agosto è vicino quindi le precoce, in agosto sappiamo benissimo che ripartono con le raccolte. Come andare avanti? Cercare di sopperire a tutta la situazione, l'importante è che si abbia un po' di stoccaggio in azienda e poi vediamo di ripartire con buona probabilità del futuro, insomma, essere ottimisti a questo punto di guardia.